Amici sportivi, benvenuti dal Palaminardi di Ragusa. Sarò lo detto per voi, Videoregione, Axel Film e un Palaminardi. Circa 4.000 presenti fino a questo momento. Tribune del Palaminardi che ha 10 minuti esatti dal fischio del trio arbitrale. Diretta dal Palaminardi, amici sportivi. Ragusa è in finale, scudetto. E palla a due, amici sportivi, inizia. L'ennesimo record messo a segno dalla famiglia. Passa l'acqua e spedizione Ragusa. Palla a due, primo possesso per gli attuali campioni d'Italia. Vanno a raddoppiare Honti su Riquana Williams per Ashley Walker. Realizza Ashley Walker. A segno di Walker che va, spalla al canestro, alla conclusione. Realizza Ashley Walker. Mini break di Ragusa di 4-0. Ancora manca un'eternità. Williams segue Honti. Macchi dalla media. Realizza da matricola per andarsi a giocare la finale. Minizza, Mijovic, a segno. Godin per l'Harkins sotto il tabellone. Realizza l'Harkins. Wilson su Honti e realizza per Honti. Arrivano i primi due punti personali. 20 secondi per andare a concludere dalla medio. Realizza sott'ana. Riparte Macchi. Ancora Godin, spalla al canestro. Su Godin, la realizzazione. Honti dalla media per Godin. L'Harkins, il taglio e la realizzazione. Mini break per Schio di 10-0. Adesso in palleggio Riquana Williams. Mijovic dalla media. La conclusione è realizza. Milizza, Mijovic. Gatti, Malaschenko dalla media. Realizza. Williams su Honti. Vanno a raddoppiare l'Harkins dalla media. Realizza. Ancora Honti. Macchi in palleggio dalla media. Realizza. Gatti, chiama lo schema. Riquana, chiama il possesso dalla media. Gatti, va alla conclusione. Realizza. Godin dalla media. Va fino alla fine. L'Harkins realizza. Esce dai blocchi. Malaschenko dalla media. Realizza. Olesia. Malaschenko. Ancora possesso. Macchi in palleggio. Dalla media. Sul ferro. Rimbalzo di Larkins. Che realizza. Per lei è il decimo punto personale. Spalla al canestro. Malaschenko per il taglio. E' il fallo di Godin sul taglio di Walker. Sul ferro. Sbaglia il primo. Ancora il secondo dispozione. 9 minuti e 20 secondi. Esce di Walker. E realizza. Tutto esaurito. Malaschenko aspetta. Realizza. E subisce il fallo. Lino Molino fa sedere. Miri Zamiciovic. E manca in campo. Virginia Galbiati. 19 Ragusa. 20 Schio. Di Ragusa. Di 4 a 0. A 8 minuti. E 26 secondi. Dalla fine del primo tempo. In palleggio. Aspetta dalla grande esperienza della Williams. Il fallo su di lei. Arriva in questo momento. E adesso. Il lunetta. Arriva la stella. Ragusa a meno uno. E' il primo. Di Riquana Williams. Assegno. Per Williams. E' il primo punto. Il primo. Di una lunga serie. Il secondo. Dalla linea dei liberi. E ancora assegno. Il sorpasso. Di Ragusa. Dalla media. Va alla conclusione. Sul ferro. Rimbalzo di Malaschenko. Che realizza. Oletchia. Malaschenko. Malaschenko. Riceve Riquana. In palleggio. Va fino alla fine. E realizza. Riquana Williams. 5 minuti. E 42 secondi. Alla fine del primo tempo. E Macchi. Attenzione all'Arkins. Sotto il tabellone. Ma attenzione a tutto schio. Sottana dalla media. Realizza. Malaschenko. La finta. Per Soli. Va a Bara. Va al blocco. Ancora lo schema segnato da Nino Molino. Escono per seguire il possesso. Malaschenko. Realizza. Olessia. Malaschenko. Il tifo del Palaminardi. Williams. su Macchi. E ancora l'Arkins. 4 secondi per andare a concludere. Schio. Allo scadele. Realizza. Sottana. Onti. Sul ferro. Rimbalzo. Di Vabbara. Fallo di Ress. Rimbalzo. Vabbara. E il terzo fallo di Ress. Cesano per la numero 22. Saranno liberi per Ragusa. Si rifà sotto. Col 7 a 0 Schio. Realizza. 2.14. Ragusa 28. Schio 27. Ancora segno. 2 di Vabbara. Secondi per Schio. Il taglio di Larkins. Spalla al canestro. Sull'errore. Arriva il fallo. Il primo. Di Walker. Sentite il frastuono. Dal live. Del Palaminardi. Fa 0 su 2. Larkins. Schio insegue. Sottana. In palleggio. Plemaker. Azzurro. Sottana. Chiama lo schema. Gioca al termine dei secondi. Dalla media. Per Macchi sul ferro. Realizza. Ultimi 20 minuti di assoluto importanti. Un Palaminardi che fa sentire il calore. Chi ha la palla sul possesso sicuramente sente anche questa tensione di una gara così importante. Mičevic dalla media. Dalla media la conclusione. Realizza. Mičevic. Gatti. Realizza. Giulia. Gatti. Gatti in palleggio. Riquana Williams. Riquana Williams. Adesso vuole velocità. Raddoppiano su Williams. Larkins e Onti. Malaschenko. Per Walker. Realizza. Ashley Walker. Riquana Williams. In palleggio. La difesa. Il rimbalzo per Walker. Assegno. Ashley Walker. Questa è la città di Ragusa. Questo. È il grazie. Va alla famiglia. Passa l'acqua. Dalla media. Realizza. Malaschenko. Il taglio. Di Walker. Non è seguito. Ancora Malaschenko. Dalla grandissima distanza. Realizza. Olessia. Malaschenko. Onti. In palleggio. Per Macchi. Mijovic su Macchi. Larkins. Sotto il tabellone. A segno. Riquana Williams. Per Mijovic. Dalla grandissima distanza. Realizza. Milizza. Mijovic. Sul passaggio. Di Williams. Walker. I centimetri. Gatti. Dalla grandissima distanza. Realizza. Giulia. Gatti. A segno. Walker. In palleggio. Larkins la difende. Si gira. Va alla conclusione. Realizza. Dalla fine del terzo quarto. Segna questo parziale. Onti per Larkins. E il fallo. Adesso il secondo a disposizione per Larkins. Larkins. Ancora 0 su 2. Goden al rimbalzo. Esce fuori palla. Dalla grandissima distanza sul ferro. Rimbalzo di Larkins. Vanno a raddoppiare. Schio va al doppio errore consecutivo. Ci prova dalla distanza. Realizza. Ragusa 49. Ragusa 49. Schio 36. Malaschenko. Prende il fallo di Goden. Con i due liberi affidati ad Olesia Malaschenko. La prima conclusione. A segno. Ancora il secondo per Olesia Malaschenko. Dalla linea della lunetta. Ancora a segno. In velocità. Non riescono le due. Ragusa va a difendere. La conclusione. E realizza. Da tre. Nostre telecamere. Questa è la ola. Del Palaminardi. I 4.000. E più. Fuori. Bianco-verdi. La ola. Dal Palaminardi di Ragusa. La matricola. Prende tutti i record. Li merita tutti. Per Riquana Williams. Che va fino alla fine. Prende il fallo. Riquana Williams. Per Ray. Il quinto personale. Ancora il secondo a disposizione. Per Riquana Williams. E ancora a segno. Inchiudato al parziale. Sottana della media. Realizza l'esperienza del capitano tricolore. Williams. Onti su di lei. Riquana Williams. Si prende il fallo. Primo libero. Dei due. Per Williams. E ancora a segno. A disposizione della linea della carità. Riquana Williams. Va all'errore. Faccio il possesso per Ragusa. Bisogna tenere palla. 54 Ragusa. 41 Schio. Riquana Williams. Malaschenko. La finta. Dalla media. Realizza. Realizza. Olessia. Malaschenko. A caricare di falli. Schio. Gatti dalla grandissima distanza. Realizza. Giulia. Gatti. 22-25 giugno. Ragusa vi offre lo spettacolo. Lo show del basket terminile. Walker. Realizza. Walker. 20 punti di vantaggio a Schio. A 8.40 dalla fine del primo quarto. Il pubblico mettono a sedere Schio con 20 di vantaggio. Nadaline. Goden. Larkins. Zonti. Sottana. Formazione di assoluta categoria. Guarda la bellezza è che oggi stiamo dando 20 punti a Schio. 19 ora. Ma è la squadra. È Ragusa che gioca da squadra. Appena sono entrato nel palazzetto e l'ho visto così addobbato con la gente in festa. divenuta la pelle d'oca. E ora qua sono con 3.500 ragusani a tifare Ragusa. Fino all'ultimo istante. Naturalmente. Naturalmente ci risentiremo. Prima che finisce la partita nuovamente in diretta. 8 minuti. Amici sportivi. 63 Ragusa. 42 Schio. L'obiettivo finale. È ancora una volta da 3 Schio. Riquana Williams dalla media va alla conclusione. Realizza da 2. Riquana Williams. L'undicesimo punto personale. Schio non fa male. Bisogna crederci fino alla fine. Sottana. Assegno. Sottana. 6 minuti e 20 secondi davvero. Un'eternità. Mijovic. Realizza. 3 dalla corte della famiglia Passalacqua. Larkins sotto il tabellone. Si gira, si arresta e conclude. 67 Ragusa. 51. Schio. 5 e 17. La tripla. Sarà la vincente al meglio delle tre gare. Gara 1 in quel del Palaminardi. Quella di quest'oggi. Giornata storica. 23 aprile 2014. Larkins ancora a segno. 20 di vantaggio per Ragusa. Adesso 69 a 53. Masciatri dalla media sul ferro. Fallo di Ragusa è il quarto. John Valoso di Roma e Pisone di Milano. Masciatri realizza. fa due su due Masciatri. E adesso Schio negli ultimi quattro minuti. Va a pressare. Contro i campioni d'Italia. Campioni per le ultime cinque finali consecutive. minuto di sospensione. Palaminardi. Davvero incredibile. Non c'è più posto amici sportivi. E ha reso sì. E ha fatto il possibile. Fino a questo momento. Realizza in sottomano. In contropiede. Larkins. A rubare palla. Ragusa. Cede qualcosa. Mette la di Plaschio. Mini break. Ragusa. Subisce il mini break. Il tabellone. Si gira. Walker. Va a difendere. Larkins. Realizza. La fine. Malaschenko. Realizza. Olesia. Malaschenko. Malaschenko. Dalla media. Realizza. È finita. Amici sportivi. Schio si ferma. Gli abbracci fra Molino e Mendez. Gli applausi di un intero Palaminardi. Ragusa. 73. Schio. 62. È la storia. Il Palaminardi. Il record. Sarò lo vetto per voi. Video regione. Il finale. 73. Ragusa. 62. Schio. Ragusa. 11. Di vantaggio. Vince. E rimanda. In gara 4. Nuovemente. Dal Palaminardi. Amici sportivi. La storia. Il record. La matricola. Le telecamere. In quel di Ragusa. L'abbraccio. Il pubblico si alza. Applaude. I 4.000 cuori bianco-verdi. Ditelo a chi non c'era. Federica Mazzone. Alice Richter. Al centro del terreno di gioco. Le Aquile. Michović. Gazzi. Mauriello. Galbiati. Williams. Walker. Malaschenko. A Bari. Sole. Valerio. Classico giro di campo. Gli abbracci. Diretta da quel dischio. Sui maxi schermi. Sabato e lunedì ore 20 e 30. Ricordandovi la gara 4. Nuovamente dal Palaminardi. L'esperienza di Nino Molino e Maurizio Ferrara. Il cuore del Palaminardi. La tecnica delle Aquile bianco-verdi. Saravetto per voi. Le immagini. E il tifo. Dei 4.000. Ragusani. E non solo. Un'intera regione. Presente al Palaminardi. L'appuntamento è in gara 4. Allora ricordiamo. Salutiamo il Presidente Passarocco. Pagano! Allora ricordiamo. Grazie a tutti.